Buonasera, vi porto il saluto di tutti i vertici dell'enciclopedia italiana. Qui è presente il Presidente, il Professor Gallo, insieme con Massimo Brai sono impegnati in un'operazione al primo piano importante, un consiglio, e quindi come un po' sospettavo sapevo che questa parte avrei dovuto farla io e lo faccio con piacere perché ho tenuto molto a questo incontro. Innanzitutto è incontro di istituzioni e di studiosi, che a loro volta penso a Gennaro Sasso, Enrico Valato, qui c'è Cutinelli, il Professor Bausi, impegnati sia in questo lavoro immane, imponente, che cambierà molto poi nella nostra considerazione di tutta l'opera machiavelliana. Da una parte c'è il carteggio, ma io sono qui come membro ventennale del Consiglio Scientifico dell'enciclopedia italiana. Nell'enciclopedia è nata questa enciclopedia machiavelliana che è uno sfondo importante, è un lavoro comune. Tutti i lavori di cui stiamo parlando e di cui parleremo oggi sono lavori di una comunità, questo non lo dobbiamo dimenticare. Allora io vi dico come è congegnata questo piccolo seminario, come gli ultimi che io sto presentando, questo l'ho anche organizzato, è molto l'onore di avere Gennaro Sasso qui. Per tutti questi ultimi incontri io ho sempre detto bisognerà fare un seminario. Io già ho anticipato a Bausi che nel dottorato che dirigo di Digital Humanities ecco un incontro su questo carteggio sarà necessario. Come è congegnato questo piccolo seminario io presento brevemente tutti e dopo la parola innanzitutto a Gennaro Sasso e poi a Emanuele Cutinelli Rendina. Dopodiché mi sono riservata un piccolo spazio da storica della cultura e quindi storica anche di questo incontro perché negli ultimi anni mi sono specializzata nella storia di conflitti, di conflitti non scientifici, di critici, di letterati che rientrano in un contesto più ampio. Ho cominciato a farlo Croce Gentile, ho continuato di recente con il libro sul croce e i filologi danteschi su Dante ecco è quello mi sono un po' attrezzata e qui c'è innanzitutto non solo un'opera imponente ma un'opera il carteggio complessivo da cui non si riesce a smettere di leggere il fascino di tutto questo corpus. Allora Emanuele Gennaro Sasso lo presenterò alla fine, ne farò un breve ritratto proprio come ultimo intervento accessorio se volete e invece ecco Cutinelli Rendina ho qui il suo curriculum che è lessi in occasione delle sue lezioni all'istituto di studi storici perché l'altra istituzione presente è l'istituto italiano per gli studi storici fondato da Benedetto Croce che noi non potremmo intendere l'opera di Sasso su Machiavelli senza la sua storia dentro, dentro quell'istituto. Cutinelli Rendina in istituto ha fatto un seminario importante stagioni e motivi della critica machiavelliana nel novecento. Lo dico solo per i pochi che non lo sanno ma è professore ordinario di italianistica a Strasburgo, all'università di Strasburgo dove dirige il dipartimento di culture e histoire dans l'espace romain, membro del comitato scientifico dell'edizione nazionale delle opere di Machiavelli, innanzitutto studioso del pensiero politico ma italianista, studioso di carteggi e nell'edizione nazionale ha curato i tomi secondo, quarto e sesto delle legazioni, opera centrale. Si è occupato di rinascimento e poi i carteggi di Croce e tanti, tanti, da Croce Fossler, Croce Mann, Croce Russo, Croce Bergel e Nunciovobis sta per uscire la prima parte della biografia di Croce. E poi per quanto riguarda oggi è importante che qui abbiamo Gennaro Sasso ed Emanuele Cutinelli, due esperti non solo di Machiavelli, pure di Guicciardini, perché per la verità in questo carteggio non vorrei dare tanta ragione poi a Bausi ma Guicciardini grandeggia, ma con l'equilibrio quell'equilibrio che voi avete, che Sasso e Cutinelli hanno stabilito. Bausi, allievo di Mario Martelli, mi ha proseguito le linee di ricerca ma è andato anche molto avanti arricchendole, rammodernandole. Io penso da studiosa di Garducci proprio per la Ricciardi Treccani, penso anche alla sua curatela, alle sue opere a proposito di Garducci. Filologo della letteratura italiana per i secoli XIII-XIV, quindi filologia, letteratura e storia della cultura umanistico rinascimentale, con particolare riguardo per la letteratura fiorentina. Però poi ecco, filologia, letteratura e storia della cultura italiana fra 8 e 900, metodologia, studioso di metriche, storia della metrica e quindi anche storia della filologia. Mi fermerei qui per dare subito, dopo questa prima velocissima presentazione, vorrei dare la parola a Gennaro Sasso, ringraziandolo per questa presenza. Buonasera, grazie innanzitutto a Emma Gianmattei, sono molto contento di essere qui e vorrei cominciare e vorrei cominciare con una informazione che intendo dare al pubblico, che si accinge a sentire le lodi meritate da questa grande edizione delle opere di Niccolò Marchevelli, di cui noi stasera sceglieremo il pistolaio. All'inizio, quando Enrico Malaso e Mario Martelli nacque l'idea di un'edizione nazionale delle opere di Marchevelli, io fui invitato dall'amico Malaso a far parte del comitato, dal quale poi uscì, non perché avessi litigato con qualcuno, per la verità non avevo litigato proprio con nessuno, e tra l'altro Mario Martelli, con il quale poi ho avuto delle cordiali polemiche marchiavelliane per iscritto, io l'ho visto purtroppo una sola volta in vita mia e fu in un convegno che si fece a Firenze per ricordare Roberto Ridolci. In quell'occasione Martelli era presente, ci incontramo, ci salutamo, ci scambiamo gli auguri di buon lavoro e non lo vedi voi più, poi purtroppo Martelli morì e io questa possibilità di un nuovo incontro non l'ho più avuta. Credo che la decisione che io allora presi, e ve lo dì, di andare via dall'edizione nazionale, forse per il vantaggio dell'edizione, perché nessuna edizione può nascere se tra coloro che la devono mandare avanti sussista una differenza di metodi, non una differenza di caratteri, ma una differenza di metodi. E siccome questa differenza indubbiamente c'era, io pensai di ritirarmi e di lasciare, è vero, a chi aveva poi avuto l'idea di questa edizione il compito di mandarla avanti e di realizzarla, cosa che è stata fatta. E questa è un'edizione nazionale che è arrivata al traguardo, cosa molto rara per le edizioni nazionali che sono destinate a non arrivare al traguardo, anche quando l'autore in questione non sia autore di cento volumi, come per esempio Benedetto Croce, ma autore di minor numero e di volumi e l'opera sua sia ragionevolmente dominabile. Detto questo vorrei aggiungere anche che c'è una cosa che riguarda me in particolare, insomma ho insegnato per una quantità enorme di anni, ho fatto corsi su tanti autori diversi, non ho mai fatto un corso su Machiavelli, mai fatto un corso su Machiavelli. Perché? Non lo so, ma evidentemente mi riusciva difficile, oppure perché ritenevo che poi Machiavelli appartenesse a me, che io potessi studiare nel mio modesto scrittorio e non dovessi comunicarlo ad altri per una sorta di gelosia e di avarizia. Non è questa la ragione, ma sono stati fatto che io corsi su Machiavelli in vita mia non ho mai fatti, ne ho parlato qualche volta in occasioni così, insomma, come questa, ma mai ho parlato di lui per la durata di un corso universitario. Noi questa sera dobbiamo presentare i carteggi, Machiavelli, questi tre volumi dell'elettrica che sono stati curati da un'equipe governata, guidata e diretta dal professor Francesco Bausi, che io rivedo adesso dopo tantissimi anni, perché io ricordo che ci incontranno in maniera casuale direi, o quasi casuale, una volta a Firenze, dove io ero capitato, io non mi ricordo francamente chi mi avesse invitato, come e perché, a tenere un seminario machiavelliano a Palazzo Strozzi, l'Istituto dei Studi di Ristrongimento. Come talvolta capita, l'organizzatore non era particolarmente felice, c'era pochissima gente, però c'era un giovane che era armato di libri e di altre cose, che insomma intertene con me una conversazione sui testi, questo giovane era Francesco Bausi, che adesso io rivedo, dopo tanto tempo, adesso lui è diventato un machiavellista importante, allora era un machiavellista evidentemente alle prime armi, che incontrava un machiavellista un po' più grande, e vero di più grande nel senso dell'età. Questa è la premessa, è vero, del discorso. E adesso come si fa a parlare di questa edizione delle lettere di Machiavelli? Innanzitutto dicendo che questa è di gran lunga, anche rispetto all'ultima edizione delle lettere, che se non sbaglio è quella di Corrado Avanti è di gran lunga, è vero, più ricca, ed è soprattutto, oltre che più ricca, molto più curata. Nel senso, è vero, che effettivamente Bausi e la sua equip, ma io parlo di Bausi e quando parlo di Bausi intendo citare tutti, naturalmente hanno, per così dire, preso ogni lettera, è vero, come se fosse un testo a sé, l'hanno studiata in tutti i risvolti, hanno chiarito tutti i riferimenti, hanno ricostruito, per come era possibile, la identità dei personaggi da voto oscuri, che necessariamente intervenivano nei carteggi machiavelliani, che sono in questo caso sempre al limite, è vero, tra la vita privata e la vita politica, perché tale era Machiavelli. E io più di dire, è vero, che effettivamente non credo, è vero, che Bausi e la sua equip potessero fare meglio di come hanno fatto, più di questo non posso dire, ma gli voglio dare un pieno riconoscimento anche perché c'è qualche cosa, dico, tra, questo poi è naturale, dico, tra Bausi, studioso di Machiavelli e io, studioso di Machiavelli, che insomma potrebbe dare luogo a qualche differenza di valutazione. Poi accenderò anche a questo per chiarire soprattutto alcuni concetti, insomma, che girano nell'orizzonte machiavelliano che forse meritano ancora di essere presi in considerazione. Questo è un carteggio di grandissima ricchezza, umana, c'è di tutto dentro questo carteggio. E quindi se mi è consentito vorrei cominciare, è vero, perché il pubblico possa avere un'idea, è vero, del mondo di vero Machiavelliano, citando una lettera che appartiene all'anno 1503, del novembre 1503, probabilmente, perché c'è un punto interrogativo, ma quasi certamente del 1503 e che si legge alle pagine del 298 e del 99, ed è opera, è vero, di una signora che era moglie di Niccolò Machiavelli. E la quale scrive, in questa, scusate, ci vuole un po' di pazienza, del 298, scrive al marito, che in quel momento non è a Firenze, per dargli notizia della nascita del suo secondo genito, di Bernardo Machiavelli. Era il nome del padre, Messer Bernardo Machiavelli, era il padre di Niccolò Machiavelli, era un giurista, oggi diremmo un avvocato, un giurista, un uomo di legge, donna appunto il titolo di Messere. E la lettera comincia con una frase, carissimo Niccolò mio, voi mi dileggiate, ma non avete ragione, eccetera, eccetera. Evidentemente la Marietta Corsini si riferisce a un costume scherzoso, irridente, pungente, che dovrebbe essere tipico di Niccolò Machiavelli, uomo di motti e di battute, magari anche abbastanza, in qualche caso, anche abbastanza feroci. E poi gli dice, non vi meravigliate se io non v'ho scritto perché non ho potuto, ho avuto la febbre insieme a ora, non sono adirata. Per ora il bambino, il bambino che è appena nato, sta bene, somiglia a voi, somiglia a voi. È bianco come la neve, ma gli hai il capo che pare il velluto nero, ed è peloso come voi, ed a che somiglia a voi, parmi bello. A me pare bellissima questa lettera, bellissima. Questa lettera che emerge, insomma, dal passato, di Marietta Corsini si parla, naturalmente, più volte, nel carteggio di Machiavelli, è lo stesso Machiavelli che chiede notizie della moglie quando è fuori, la moglie dà notizie attraverso altre persone sue, è vero, al marito che si trova in giro, è vero, per i suoi affari politici e diplomatici, messa in questa lettera, che credo sia l'unica, è vero, che rimane di Marietta Corsini, mi ha sempre sembrata veramente molto bella. E meritevole, è vero, di essere ricordata, anche quando si parla, del suo marito, che certamente è passato alla storia con titoli maggiori che non fossero quelli della moglie. Procedo, è vero, in modo molto veloce e chiedo, è vero, a Bausi e ai suoi collaboratori, se a proposito della lettera di Bartolomeu Suspucci del 4 giugno 1504, non sarebbe stato opportuno richiamare, anche lì, richiamare questa lettera dove si parla degli libizi a Sodderino. Cioè di questo curioso testo, che appartiene al 1506, che si era a lungo creduto che appartenesse al 1512 e che fosse indirizzata non a Giovanni Battista Sodderini, ma a Pier Sodderini, cioè al Gonfaroniere, che non era più tale, e nell'autografo si leggeva non Raugia, cioè Ragusa, come appunto era stato letto, ma Perugia, e questo è merito di Roberto Ridolfi, aver individuato questa diversa parola e avere datato la lettera del 1506. La lettera è molto curiosa, è un documento complesso, probabilmente, credo che abbia ragione Bausi nel dire che non è stata mai mandata, è stata scritta per essere mandata, poi non è stata mandata, forse perché scrivendo, a un certo punto Machiavelli si è involto in una questione riguardante la fortuna, riguardante insomma la pesante necessità delle cose e la possibilità, è vero, che l'uomo saio potesse uscire vivo, è vero, dal confronto, è vero, con la fortuna o con la logica delle cose, per cui a un certo punto Machiavelli dovrebbe metterla da parte e la cosa singolare, adesso semplifico, i discorsi potrebbero essere più lunghi, su questo testo è abbastanza singolare che questa lettera venga a far parte, è vero, di uno dei capitoli più drammatici del Principe, che è il 25esimo, il capitolo sulla fortuna e sulla virtù, perché appunto ad una prima parte in cui Machiavelli paragona la fortuna, il famoso fiume che argini potenti riescono a tenere a vada qualora l'uomo sia capace di innalzarli per tempo e poi segue, venendo più ai particolari, dice Machiavelli, nel testo segue proprio un passo che corrisponde sostanzialmente a quello dei Ghiribis e Sardegni. Questo è un controcanto di natura drammatizzante rispetto a questo esordio più, diciamo, ottimistico nel senso della prevalenza dell'uomo sulla fortuna, insomma, che Machiavelli vuole ad un certo punto imporre, cosicché il capitolo si caratterizza attraverso queste due tonalità che vengono poi riassunte alla fine nella dichiarazione che è meglio essere impetuoso che il rispettivo, essere quindi piuttosto come Giulio II che come Fabio Massimo, perché? Beh, perché la fortuna è donna e così via dicendo. Su questo punto della fortuna donna e sul problema, diciamo, del modo in cui Machiavelli si riferisce all'universo femminile, si potrebbe parlare a lungo e non è una questione di fura biografia, cosa che interesserebbe relativamente a questo punto perché riguarda l'opera di Machiavelli, perché, per esempio, la mandragola è, beh, insomma, come dire, il personaggio da conquistare, la fortessa da far cadere, è una donna, è Lucrezia, si chiama Lucrezia, dico, è appunto, è la moglie di un personaggio, è vero, poi è un dottore, anche quello è un dottore di legge, e il modo in cui Machiavelli si rapporta, è vero, con il sesso femminile è importante per capire, anche per entrare in quest'opera, nella mandragola, che è un'opera complessa, è vero che richiede molta attenzione e molta cura. Vengo molto velocemente a, beh, insomma, la lettera forse più famosa del carteggio machiavelliano, tutti la conosceranno, una volta si leggeva anche a scuola, adesso non so che cosa si legge a scuola, forse non si legge più che Machiavelli. La lettera è una lettera del 1513, del 10 dicembre 1513, Machiavelli è ormai fuori dalla cancelleria, vive a Sant'Andrea in Percursina e fa quella famosa vita che egli descrive, insomma, tra, che poi sarà vero o non vero, comunque è una descrizione letteraria, tra l'osteria, è vero, che sta lì di fronte alla sua casa, dove egli si ingaglioffa, è vero, e litiga, è vero, con quelli che passano e gioca, è vero, e si sente urlare fino a San Cacciano, ma poi però a un certo punto torna a casa, si toglie la veste quotidiana, piena di fangoli, le veste, i fanni coriari, ed entra nelle corti degli antichi uomini, dai quali è ricevuto. E qui c'è una frase sulla quale io richiamo l'attenzione, non per trarre conclusioni, ma per proporla, appunto, all'attenzione. E la frase è quella in cui Machiavelli dice, appunto, che lì nel confronto con gli antichi scrittori, che non nomina, dobbiamo pensare che possono essere quello o quell'altro, adesso non importa, sono gli antichi scrittori, dei quali impara, diciamo così, la politica e la storia, e gli riceve quel cibo che Solum è mio, dice Machiavelli, e che io nacqui per lui. Ecco, qui mi fermo un momento e propongo questa considerazione. che quel cibo sia veramente il cibo di Machiavelli, la lettura di quei testi, che lo orientano nelle questioni della politica, gli insegnano che cosa sia la storia, che cosa sia la virtù che interviene nella storia, e così via dicendo, il mondo machiavelliano. Machiavelli però dice anche un'altra cosa, che quel cibo è suo e degli nacque per lui. Questo lo dice il 10 dicembre del 1513. E allora, questa frase, questa espressione, esser nato e vero per leggere i classici, quei classici, per farli propri, per ricavarne qualche cosa di sostanzialmente, questa lettura, quando è avvenuta? Quando è che Machiavelli ha letto questi classici? Quando è che ha corrisposto effettivamente al richiamo che i classici facevano di lui, offrendogli quel cibo che solo era suo e che egli era nato per lui? Perché insomma, i Machiavelli che noi conosciamo, lo conosciamo abbastanza bene tutto sommato, perché è stato in cancelleria e lì facciamo seguire la sua traccia, è stato in giro per varie corsi, è stato in Francia, è stato, tutti lo sanno. Questo Machiavelli incomincia intorno al 1498-1999, è già un uomo che è tra i 28, 29, 30 anni, quindi è un uomo maturo. E che Machiavelli ci sia messo a leggere i classici, anche ammettendo che la sua selezione sia piuttosto ristretta e non larghissima, che abbia letto Livio e non abbia letto tutto intero e uscibile antico concernente, è vero, la guerra e la pace. Beh, insomma, nel periodo della cancelleria sembra un po' difficile che Machiavelli potesse avere agio di fare questo, non stava fermo un momento. Agostino Vespucci, suo coagliatore in cancelleria, dice che era cursitandi avidus, non stava fermo. Tanto che a me viene fatto di pensare, chissà, quel giovane malato di corsa che appare nel primo canto dell'Asio non sia una rappresentazione autobiografica di questa inquietudine di Machiavelli, che però noi dovremmo adesso a questo punto retrocedere al periodo anteriore alla cancelleria. Immaginando che Machiavelli in quel periodo abbia effettivamente dedicato se stesso tra le tante esperienze che veniva facendo, correndo di qua e di là, una cultura classica, ecco, e qui interviene la questione che vorrei porre, cultura classica, la lettura dei classici. Questo non significa che da parte mia, questo certamente non è mai avvenuto, ma che io sappia che ci sia stato qualcuno e vero tra i machiavellisti della generazione precedente alla mia, della mia generazione, quelli che ho conosciuto meglio, perché adesso i machiavellisti della generazione più recente li seguo, ma non si può fare tutto e quindi naturalmente può anche darsi che alcune cose mi sfuggano, e vero, fondamentali. Non c'è stato mai nessuno che io sappia che abbia detto che Machiavelli fosse un classicista, che Machiavelli fosse un uomo di lettere, e vero, paragonabile ai grandi umanisti che precedevano la sua generazione. Machiavelli non è poliziano, non fosse anche vero una ragione molto semplice che la filologia di poliziano si esercita soprattutto sono stati greci, e Machiavelli il greco certamente non lo sa, anche se ai tempi, nell'età di Carducci, un curioso personaggio che si chiamava Costantino Tcantafillis si era messo in capo perché Machiavelli sapesse il greco. Le prove che dette di questo erano ridicole assolutamente, ma lui era greco e voleva assolutamente che quest'autore chiamava, sapesse la sua lingua. La lingua è dei suoi padri, vedete, il greco antico. Machiavelli non è mai stato un umanista da questo punto di vista, ma non è detto che per leggere gli antichi si deva essere umanisti. E Machiavelli certamente ha letto gli antichi in un altro modo e ha anche detto che li leggeva in un altro modo. Quando? Per esempio nell'arte della guerra un'opera anche abbastanza noiosa, diciamo la verità, ma che ha dei momenti di forte accensione concettuale. In quest'opera a un certo punto Machiavelli polemizza con l'abitudine umanistica per la quale gli orti oricellari che è il luogo dove Machiavelli legge i discorsi e commenti i discorsi con i giovani che avevano invitato, questo luogo era adornato di bellissime statue antiche. e lì Fabrizio Colonna che sarebbe appunto il Machiavelli che spiega la materia dell'arte della guerra dice in maniera esplicita quanto meglio avrebbero fatto a prediligere le cose che si fanno sotto il sole e non sotto l'ombra, sotto l'ombra delle statue e di questi bellissimi alberi che decoravano i giardini gli orti oricellari. È una scelta e il fatto che ecco questa è un'osservazione che rivolgo direttamente all'amico Bausi ecco il fatto che Machiavelli non ami e per parlare citare ecco opere classiche beh non è detto che necessariamente non le conosca è che l'avitudine di avbellire forse umanisticamente un'epistola con citazioni di poeti antichi non appartiene a lui che ogni tanto pure fa qualche citazione indubbiamente ma la fa sempre in modo molto più funzionale al discorso che ha in in atto ci sono 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 io adesso non vorrei far togliere ma la materia Machiavelli è fatta così no quindi vengo ad un punto che prendo occasione per chiarire cioè la questione della filosofia eh sì io ho scritto 1966 allegramente ho scritto un articolo intitolato filosofia o scopo pratico del principe cosa ho inteso dire che il principe fosse opera filosofica ho inteso dire che Machiavelli fosse un filosofo potrei subito dire che anni dopo perché di me si fa questione eh tornando su questa questione della filosofia a proposito di una frase che si trova nel capitolo machiavelliano della storia della letteratura italiana di Francesco De Santis e che dice così all'incirca Machiavelli è filosofo dell'uomo Spinoza è filosofo dell'essere forse meglio della sostanza dell'essere dice De Santis beh io ho commentato dicendo filosofo dell'uomo non significa niente filosofo dell'essere sì che significa Machiavelli non è filosofo dell'essere dunque Machiavelli non è filosofo che cosa intendevo dire intendevo dire che non si è mai pensato almeno che ci fosse un sistema di pensiero le cui parti si corrispondessero nel segno di una concettualità dominante che è quella che caratterizza il discorso filosofico in che senso allora diciamo si trova filosofia in Machiavelli e si trovano spunti di riflessione che hanno indotto importanti filologi proprio Spinoza quelli dell'idealismo classico tedesco alcuni filosofi dell'idealismo italiano alcuni personaggi della tradizione marxista a considerare Machiavelli un pensatore un pensatore e Machiavelli è certamente un pensatore e lo dice lui stesso e poiché non fa scienza senza ritenerlo avere inteso questa è una citazione di Dante e ho scritto un opuscolo nel quale eccetera eccetera non fa scienza e quindi fa scienza cosa vuol dire che fa scienza che ordina i concetti dell'architettura tipica è vero del ragionamento filosofico non di certo ma che pone una serie di sollecitazioni dalla quale i filosofi quelli che effettivamente sono tali sono stati colpiti sono stati sollecitati e sono entrati in dialogo e vero con Machiavelli mi viene sempre in mente questo proposito anche per rendere il discorso meno teso mi viene sempre in mente un personaggio straordinario non è mai esistito sta nei promessi sposi si chiama Don Ferrante il quale aveva una biblioteca in cui prevalevano gli autori della ragione di Stato ogni tanto Don Ferrante la guardava questa biblioteca l'occhio si posava e lui diceva ecco questa è l'opera del grande Giovanni Botero e poi aggiunge gentiluomo sì ma acuto poi l'occhio si sposta un po' e cade Machiavelli e Don Ferrante dice Machiavelli Mariolo sì ma profondo e quando Manzoni dice così non è una battuta non è una battuta questo Machiavelli profondo è quello che poi diventa un interlocutore importante della sua opera teorica più pensata e anche sofferta la morale cattolica e lì il dialogo con con Machiavelli è continuo anche se dove non è citato e questa stessa vicenda della margolità di Machiavelli che però va giù nel profondo si trova in tutta quanta la tradizione diciamo esegesi di Machiavelli più precedente precedente il De Santis che poi De Santis raccoglie e l'ultima considerazione riguarda il modo in cui talvolta da quelli che hanno ritenuto che Machiavelli fosse un filoso si è parlato della filosofia di Machiavelli cito uno studioso in signe al quale io sono stato anche molto legato insomma con il quale ho parlato anche di Machiavelli il quale ha lui sì dico parlato di una filosofia di Machiavelli e come ha fatto a parlare della filosofia di Machiavelli beh ha trovato un principio ha stabilito un principio questo principio era quello dell'eternità del mondo e di lì attraverso una serie di connessioni di citazione di tessi ha cercato di creare un universo filosofico machiavelliano bene Garene era un grande studioso era uno scrittore molto comunicativo era una persona di cui si deve parlare con la massima reverenza io non ho mai concepito la filosofia di Machiavelli in questo modo non ho mai pensato che ci fosse un sistema filosofico che Machiavelli abbia dedotto da un principio fosse l'eternità del mondo o un altro principio io credo che Machiavelli sia stato un sollecitatore di problemi che non risolveva ma poneva drammaticamente questi sono stati raccolti e di questo si nutre in parte la critica Machiavelliana ma molto il pensiero che indirettamente viene fuori dalla meditazione di questo grande scrittore ci sono esempi di riduzione di Machiavelli alla filosofia ne cito due sono due scrittori che mi sembra che siano dimenticati dalla critica machiavelliana tutto sommato non ha torto ma sono significativi del modo in cui uno è uno spirito autore di un libro uscito nel 1942 o 43 e che si chiama Machiavelli e Guisardini beh Machiavelli è considerato è trattato come un filosofo poi da un certo punto spirito dice che come filosofo non è abbastanza rigoroso ma intanto può dirlo in quanto lo tratta come un filosofo per Guisardini la questione è un po' diversa l'altro autore si chiama Francesco Collotti leggere il libro di Francesco Collotti uscito nel 1939 beh significa partecipare ad un seminario i cui protagonisti sono una parte croce della gentile e uno dice ma Machiavelli qua che ci entra ecco con questo modo di intendere la filosofia io strumento non ho mai avuto nulla a che fare ma che Machiavelli fosse uno che guardava spregiudicamente ed era mariolo come diceva Don Ferrand i fatti non sempre vanno rispettati questo c'è scritto nel disottieno che ho visto del principe ecco sì effettivamente sì mariolo sì ma profondo grazie 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 al professor Sasso che in una maniera di grande equilibrio ci ha ricordato una storia e c'è una sorta di puntualizzazione proprio contro l'interpretazione filosofica tra virgolette diciamo così e però nello stesso tempo c'è un pensiero e come hai scritto qualche anno fa c'è una lettura la tua sistematizzante che è quella che non dissolve il pensiero nella circostanza che lo avrebbe prodotto perché il rapporto tra fatti e concetti è un po' uno dei nodi di di queste scuole di pensiero che poi sono complementari Piovani grande storico delle idee parlava di una cooperazione antagonistica vale a dire tra i filologi e quelli che interpretano Machiavelli nel modo di sasso c'è c'è una cooperazione antagonistica e voglio solo ricordare che proprio Cutinelli nell'introduzione ad un volume da lui curato molto molto utile del 21 per Carocci in cui dice che bisogna da una parte restituire Machiavelli al suo tempo e non c'è niente da fare e che però tutti quelli che avevano partecipato a quel volume che erano poi quelli che avevano partecipato all'enciclopedia machiavelliana dice Cutinelli condividono la convinzione che non sia possibile circoscrivere l'opera di Machiavelli in un determinato recinto intellettuale ecco questo è un po' c'è una convergenza di saperi di interdisciplinarità che ora mi pare che sia più accettata di un tempo la filologia è sacrosanta ma non ha il monopolio dell'interpretazione ma coloro che pensano che interpretano Machiavelli debbano debbano tenere conto dei dettagli dei fatti dei dati di fatto come li chiama Bavusi nell'introduzione al carteggio continuamente e capisco bene la sua la sua strategia propositiva voglio subito dare la parola stiamo parlando di cose che sembrano ecco semplificate dal tempo e però che hanno un nucleo di problemi che solo i grandi possono sollecitare e produrre voglio dare la parola a Emanuele Cutinelli Rendina che è un espertissimo e ha saputo anche mantenere un equilibrio miracoloso anche nei momenti di quelle grandi polemiche di quelle grandi battaglie in verità voglio dire subito che appunto tra Mario Martelli e Gennaro Sasso c'è stata una polemica fervida ma rispettosa quello che non c'è stato per una distanza che non prevedeva neppure discussione è quella con Dionisotti ecco a proposito di chi pensa che ma questo lo non mi pare una persona litigiosa no voglio dare subito la parola all'equilibrio di Emanuele Cutinelli Rendina grazie grazie Emma ecco è un luogo comune piuttosto diffuso quando si avviano questo genere di presentazioni che il presentatore evochi le difficoltà in cui si trova per assolvere il compito che gli è stato affidato sarà pure un luogo comune tuttavia nel mio caso risponde pienamente a verità le difficoltà sono anzitutto di ordine soggettivo ma queste poi a loro volta potenziano quelle di ordine oggettivo evidenti peraltro a chiunque prenda in mano questi tre tomi difficoltà soggettive dunque perché ho seguito da vicino la laboriosissima gestazione di questa interpresa una di quelle che bastano da sole a riempire una vita e comunque se ne fa una e non più in una vita l'ho seguita da vicino e sia pure come semplice osservatore ma osservatore partecipe e appassionato sono ormai in quella minoranza di membri del comitato scientifico dell'edizione nazionale di Machiavelli il cui nome non sia preceduto da una crocetta e non possiamo tutti che rammaricarci pensando a quel che avrebbero detto qui al posto mio un Ezio Raimondi o un Giorgio Barberi Squarotti o magari con altre prospettive un Nicolai Rubinstein ma tant'è la ruota gira ed è raro che ci si guadagni lavorando dunque per conto mio e con altri amici nella stanza accanto quella cioè come è stata evocata dei carteggi diplomatici ed ufficio di Machiavelli ben presto mi è apparso chiaro che il grosso scoglio che avrebbe potuto impedire all'edizione nazionale di giungere in porto in un numero ragionevole di decenni era proprio la sezione delle lettere del carteggio familiare di Nicolò nel caso delle corrispondenze diplomatiche ed ufficio c'era la quantità stessa dei documenti quantità che però grazie anche al sapiente coordinamento di Jean-Jacques Marchand e all'esperienza precedente di Fredi Chiappelli di cui potemmo almeno in parte avvalerci siamo riusciti questa quantità a governare contenendola nei sette tomi che ora ospitano le legazioni commisserie e scritti di governo portando l'intrapresa al traguardo in appena una ventina d'anni ma con apparati assai più succinti di quelli che oggi opportunamente accompagnano qui il carteggio privato per il quale carteggio familiare invece tutto era da rifare e bisognava in sostanza partire da zero a rendere quasi disperante l'impresa si ergeva una molteplicità di fattori anzitutto la grande dispersione archivistica dei testimoni con l'ambigua funzione spesso francamente negativa del collezionismo privato e certo fa impressione leggere che ancora negli anni 2000 2015 2016 mi sembra autografi di Machiavelli possano affiorare nel mercato antiquario e poi di nuovo scomparire senza che a chi è intento a curarne l'edizione nazionale sia data la possibilità di studiarli e chiudo questa parentesi polemica con i collezionisti e quindi ma dovrei dire in primo luogo tra le difficoltà intrinseche che insidiavano una compiuta e adeguata edizione di questo epistolario va messo il lavoro propriamente filologico linguistico e storico richiesto da testi spalmati su un trentennio e che trentennio di storia fiorentina italiana con testimoni della più disparata provenienza con corrispondenti dai profili tanto diversi come possono essere quelli che vanno dallo scrivente semicolto magari non toscano a un francesco guicciardini o a uno jacopo sadoleto di qui la mia ammilazione nel vedere oggi giunta al traguardo a coronamento complessivo dell'edizione nazionale le lettere machiavelliane che se nelle precedenti edizioni erano generalmente contenute in un volume di alcune centinaia di pagine ora ne ha richieste le oltre duemila che ci stanno di fronte dove a dire il vero nulla vi appare di superfluo un'ammirazione che in me è tanto più schietta proprio perché come dicevo mi trovo a essere tra coloro che meglio possono misurare il raro sapere e la lunga fatica che tale impresa deve essere costata ad Alessio Decaria a Diletta Gamberini ad Andrea Guidi ad Alessandro Montevecchi a Marcello Simonetta a Carlo Varotti a Luca Boschetto e a Stella La Rosa e con tutti loro a Francesco Bausi che ne ha coordinato e armonizzato il lavoro conseguendo un risultato di mirabile omogeneità non esitando per altro verso a farsi elemento della squadra con la sua propria cospicua porzione di lavoro individuale da dove dunque cominciare una presentazione orale che deve ragionevolmente essere contenuta nel volgere di un paio di decine di minuti ecco quindi moltiplicate e potenziate da quelle soggettive le difficoltà oggettive a cui alludevo a tal punto si è in imbarazzo o almeno io mi trovo in imbarazzo per reperire un ingresso che consenta di inoltrarsi in questa che se non è una giungla è però una foresta eccezionalmente lustureggiante certo per il vecchio lettore di Machiavelli che vi parla sarebbe forte la tentazione di avviare il discorso quasi maldestro leporello anzitutto con un catalogo delle tante e varie conquiste ossia dei tanti e tanti incrementi di cui questa edizione può fare legittimo vanto rispetto al plurisecolare lavoro da cui essa è stata preceduta un lavoro che il lettore trova qui compiutamente storicizzato nell'introduzione di Bausi dunque mi piacerebbe poter cominciare con un inventario della nuova ricchezza ossia nuove lettere a Machiavelli nuovi testimoni testuali di lettere già conosciute di e a Machiavelli documenti complementari talvolta ignoti o magari anche noti ma usciti dalla circolazione per esempio gli importanti testamenti di Machiavelli il vecchio lettore di Machiavelli che vi parla tenderebbe insomma a trasformare la presentazione in un seminario come ne parlava adesso Emma Gianmattei e così aver campo libero per indicare e discutere ma soprattutto direi per salutare con gratitudine le integrazioni testuali le migliori letture che finalmente danno un senso a passi altrimenti oscuri l'individuazione di personaggi minori e minimi le nuove proposte di datazione di singoli pezzi le larghe contestualizzazioni affidate ai cappelli introduttivi di ogni lettera insomma un'infinità di particolari talvolta anche solo di minutissimi particolari che veramente confermano in maniera paradigmatica il noto teorema hegeliano della conversione della quantità in qualità fa certo fa una certa differenza tanto per offrire un paio di minimi esempi del catalogo che mi visco di compilare fa una certa differenza vedere che in quella tal lettera bisogna leggere opera lì dove tutti i precedenti editori avevano letto sfera con quali lesioni per il senso complessivo dello scambio è facile immaginare o che una lettera di Guicciardini e Machiavelli vada scritta non all'estate del 1525 bensì all'autunno del 1527 dopo la morte del destinatario e sia dunque da cogliere in essa una sorta di omaggio postumo all'amico scomparso da poco un omaggio condotto nella forma di un bizzarro divertissement letterario così inconsolato per le abitudini del compassato e segreto autore della storia d'Italia e si potrebbe continuare a lungo spigolando nella nuova abbondante materia che per lo studioso il biografo di Machiavelli verrà da questa edizione si potrebbe appunto ma credo che sarebbe sconveniente alla circostanza perché non è questa l'occasione di quei seminari e di quelle discussioni a cui la nuova edizione delle lettere darà sicuramente luogo e allora non mi rimane che svestire i panni del vecchio appassionato lettore di Machiavelli e piuttosto cercare di guadagnare una certa altezza o quantomeno una certa distanza prospettica nei confronti dell'oggetto che ci sta di fronte e provare a indicare in poche parole quel che mi sembra che la nuova edizione consente di dire meglio di quanto prima si potesse o comunque lo consente offrendo una base alquanto più sicura e anche di ciò anche in ciò avvio il discorso con una notazione in parte personale Francesco Bausi osserva nella sua introduzione che negli studi machiavelliani le lettere hanno penato a trovare lo statuto e la dignità di un ambito autonomo nella produzione di Machiavelli e anzi in realtà non li hanno mai davvero avuti il carteggio privato resta di gran lunga scrive nell'introduzione Bausi l'ambito più trascurato degli studi sul segretario e fino a oggi ne mancava sia un'edizione critica che stabilisse il corpus e il testo su basi scientifiche sia un commento completo ed esauriente e ricorda poi Bausi come anche studi recenti e opere complessive e di intenzione divulgativa tra cui anche una recentissima sotto la mia responsabilità richiamata adesso da Emma Giammattei ecco anche queste opere non abbiano dato spazio al carteggio familiare o assai modesto per quel che mi riguarda mi dico alla francese Touche il rilievo è vero e soprattutto è opportuno e come sappiamo salomonicamente sermo opportunus est optimus in effetti questo corpus epistolare merita di essere considerato in sé per sé e si può allora cominciare a indicare alcune linee di quello che a me sembra possa essere il discorso un po' più ampio da condurre quando esso si è osservato nella sua globalità cos'è dunque questo corpus di lettere o piuttosto che cosa davvero lo caratterizza come detto altrimenti si situa nel quadro generale della letteratura italiana comincio con il dire che si tratta in effetti per quanto possa apparire banale osservarlo ma non lo è che si tratta di vere lettere familiari non sono lettere indirizzate posteritati come quelle di Petrarca o di altri umanisti e non solo per la scelta del volgare poiché tutto sommato sono lettere per un pubblico e per i posteri sia pure su un piano differente per quei posteri che sono i lettori di domani o di dopodomani anche quelle volgari del quasi contemporaneo Pietro Arretino e ci sono epistolari volgari per fare ancora qualche nome vicino a Machiavelli che in realtà per materia e per tono non sono veramente familiari che si tratti di Lorenzo il Magnifico o anche di Francesco Guicciardini nelle lettere del quale non c'è praticamente nulla di familiare neppure quando scriveva al padre o ai fratelli in sostanza come scriveva a Machiavelli Guicciardini non scriveva che a Machiavelli e peraltro se ci si pensa nelle migliaia e migliaia di sue lettere di Guicciardini che ci sono giunte non ce n'è una alla moglie o alle figlie qualcosa forse di paragonabile alla lontana con questo corpus Machiavelliano è quello delle lettere di Baldassare Castiglione soprattutto quando scriveva la madre a proposito si tratta di un'altra plurisecolare e variamente intralciata edizione quella delle lettere di Castiglione giunta in porto solo di recente sì in effetti quando scriveva alla madre Luigia quelle di Castiglione sono in qualche modo lettere familiari ma molto alla lontana sia perché si sente che Baldassare scrive ad una marchesa con Zaga e la materia è quasi sempre politica e diplomatica o al massimo si tratta della borsa che la madre non allarga e poi ancora alla lontana il suo carteggio può essere avvicinato a quello di Machiavelli perché il punto critico fondamentale è che per le lettere di Castiglione il nesso con l'opera con l'opera sua è davvero assai tenue e comunque diretto e anzi forse inesistente ciò che invece come dirò fra breve proprio non è il caso di Machiavelli dunque nel quadro della letteratura italiana quello di Machiavelli è il primo vero grande epistolario autenticamente familiare intimo come anche abbiamo sentito dalla splendida lettera di Marietta che Gennaro Sasso ci ha poc'anzi letta vere lettere lettere viaggiate come si dice nel gergo della filatelia ci sono certo le eccezioni e quali eccezioni come le lettere trattato i cosiddetti chiribizi o la lettera Raffaello Girolami che è un piccolo trattato intorno alla figura dell'ambasciatore ma che è stata edita quest'ultima negli scritti politici minori sono tante le zone di tangenza tra le lettere vere e proprie e altre tipologie di testi vi sono poi le lettere novella come quella celeberrima sulla prostituta veronese divertissement letterario che è però significativo che sia sorto non autonomamente ma nel quadro di uno scambio epistolare vi sono inoltre ne non poche lettere parere politico diplomatico per così dire scritte cioè su sollecitazione o su commissione di amici potenti d'accordo c'è tutto questo che difficilmente potrebbe essere detto propriamente corrispondenza familiare sebbene appaia per altro verso pur significativo che tutto ciò nasca nel quadro di corrispondenze familiari e sull'onda in genere di una conversazione epistolare ma ci sono poi anche e soprattutto le lettere davvero familiari a un figlio a cui Nicolò con toni commoventi raccomanda serietà e applicazione nello studio e dà assai significativi e toccanti consigli su come trattare un asinello imbizzito a un nipote con il quale Nicolò si apre come non sempre e non nello stesso modo faceva con amici coetanei e magari lo fa raccomandandosi nella lettera stessa per conto della moglie affinché il nipote gli spedisca da Costantinopoli un gomitolo di lana di cammello e degli aghi di qualità migliore di quelli che gli aveva già inviati e poi la letterina della moglie e ci sono poi tutte le corrispondenze con i colleghi della cancelleria per le quali purtroppo quasi sempre siamo privi della voce di Machiavelli ma che comunque restituiscono il clima di quell'ambiente la rete di amicizie e anche appunto i rapporti familiari e quindi vi sono ovviamente le sezioni celeberrime costituite dagli scambi con Vettori e con Guicciardini scambi davvero straordinari sia perché più continuati e con entrambe le voci e sia per la levatura dei corrispondenti anche in questo caso comunque vere lettere tra amici e qui appunto si situa il problema critico o più modestamente lo spunto di riflessione che intendo proporre perché adatto ad una prima veloce presentazione orale dell'eccezionalità di questo corpus quello di Machiavelli dicevo è il primo grande epistolario familiare autenticamente familiare della letteratura italiana il primo in un senso tuttavia che è bene determinare ulteriormente come già osservavo bisogna intendersi su questa priorità perché certo si può ragionevolmente obiettare poniamo che quello peraltro assai bello di Alessandra Macinghi Storzi è un epistolario ben familiare e ben anteriore a questo di Machiavelli o che quello di Baldassarre Castiglione presenta anch'esso un carattere familiare nelle parti in cui lo è ed è peraltro coevo a quello di Machiavelli ma il punto autentico che consente di parlare per Machiavelli del primo grande epistolario familiare della nostra letteratura è che se per Alessandra Macinghi Storzi l'epistolario è veramente familiare però poi manchiamo completamente di un'opera con cui metterlo in risonanza per Castiglione invece l'epistolario è solo tenuemente familiare e non vi si avvertono particolari echi di quel che andava maturando il suo autore che è poi in sostanza l'autore o lo scrittore di un solo grande libro quanto poi a Francesco Guicciardini scrittore di lettere la cesura con l'opera è se si vuole assoluta le sue lettere trattano bensì la nuda materia che poi costituirà parte cospicua della sua opera storiografica ma nulla in esse lascia presagire lo scrittore ossia la specifica qualità di scrittore di cose storiche e politiche e morali che il loro autore Francesco Guicciardini portava dentro per Machiavelli non è così le sue lettere sono ad un tempo lettere veramente familiari e non di meno in esse sentiamo sempre la voce dell'autore del principe e della mandragola dell'arte della guerra e dei discorsi e delle tante tante relazioni diplomatiche come anche per certi versi dell'opera inversi dunque il problema critico delle lettere esiste e Francesco Bausi ha fatto bene a rilevare che esso va affrontato in sé per sé ossia le lettere di Machiavelli vanno lette tanto come un corpus globale quanto e soprattutto cercando di farle interagire con il resto dell'opera sua naturalmente queste mie ora sono parole parole alquanto vague perché dopo aver evocato la questione generale se cioè un epistolario familiare sia o meno una chiave d'accesso all'opera di un autore se sveli o piuttosto non veli il profilo di questa se scrivendo lettere un autore preferisca chiarirsi o magari nascondersi ecco dopo aver evocato tale questione generale si tratta poi di determinare quale è il nesso e la qualità del nesso che di volta in volta può essere stabilito tra lettera e opera tra questa lettera e quest'opera il massimo biografo novecentesco di Machiavelli Roberto Ridolfi fece ovviamente largo ricorso alle lettere come è ragionevole che un biografo faccia e in più di un'occasione giunse a parlare del carteggio familiare come di ciò che restituisce il volto il vero volto di Machiavelli che finalmente traspare dietro una maschera che evidentemente quel volto in parte occulta e in parte sfigura è un'interpretazione che mi ha sempre lasciato perplesso come Francesco Bauti sa perché ne abbiamo più volte discusso e parlando di perplessità non intendo far ricorso ad una un po' ipocrita attenuazione retorica la perplessità in me è veramente tale ossia come non può essere convinta adesione neppure essa ha argomenti per essere convinta avversione in ogni caso quello del volto che le lettere di Machiavelli ci restituiscono è un nodo critico che non può essere affidato ad un astratto discorso teorico o di metodo lo si risolve se e quando lo si risolve con il diretto impegno esegetico leggendo le lettere di Machiavelli e con esse cercando di capire meglio le opere leggendo le opere e cercando con esse di capire meglio le sue lettere e oggi questo non facile ma necessario esercizio critico lo possiamo affrontare sul fondamento di un lavoro filologico storico e linguistico che onora gli studi italiani grazie impareggiabile come sempre Cutinelli Rendina ci ha dato un quadro anche molto utile vorrei dire e quindi ho l'occasione di aggiungere un intervento breve in modo da poter da poter poi dare la parola giustamente a Francesco Bau se io potrò visto i due interventi precedenti potrò muovermi in una maniera se volete laterale o seconda ma sicuramente tenendo tenendo presente la novità di questo carteggio che ci sollecita in tanti modi come abbiamo visto io voglio partire proprio dal da genero sasso perché chi l'aveva sempre visto come studioso di Croce di Gentile di Dante deve anche sapere che il suo autore e non a caso non ha mai fatto una lezione universitaria su Machiavelli il suo autore è Machiavelli su cui scatta un altro tipo di scrittura critica addirittura di vibrazione ci sono non ha fatto lezioni universitarie ma ha fatto lezioni su rai cultura che sono memorabili io sono andata a rivederle e lì c'è e vi invito a darla a vedere per capire per capire Machiavelli non solo il suo ma vorrei dire qualcosa di profondamente caratterizzante l'autore voglio partire dai suoi ultimi scritti che sono del 2015 e nella introduzione lui dice nel riprendere in mano il filo di ricerche e di pensieri che per quanto era in merito nevo fosse stato dipanato a sufficienza ho dovuto constatare ancora una volta che con Machiavelli in realtà non si finisce mai neppure con Dante evidentemente si finisce mai e che il contatto che si ristabilisca con la sua opera non avviene senza che a esserne sollecitata sia la delineazione di qualche diversa prospettiva nessi prima non visti o non visti con altrettanta chiarezza che all'improvviso si impongono all'attenzione anche se la lunga stagione delle polemiche che pur ci sono state appariva esaurita qui mai ripetitivo si rivela il ritorno al segretario fiorentino un ritorno che aveva appena conseguito il risultato in apparenza solo di servizio ma poi strumento importante dell'enciclopedia Machiavelli 2015 appunto e i saggi sono quelli rivisitati negli ultimi scritti sono quelli che provengono dall'enciclopedia vera fucina di un lavoro comune e in ragione di quel lavoro comune quindi assume un significato alto proprio questo incontro con Bausi e i suoi lettere che sollecitano nuove esigenze interpretative e che concernono nuova attenzione per esempio al dato linguistico di queste lettere al nuovo ethos un ethos della scrittura un'attenzione che dobbiamo ora fare grazie a Bausi alla comunicazione all'occorrenza di modi e forme del comunicare e comunque con gli ultimi scritti si concludeva per sasso provvisoriamente visto che siamo qui un itinerario di oltre 70 anni cominciato nel 51 con una recensione pubblicata sui annali della scuola normale di Pisa sull'edizione di Leslie Walker dei discorsi che lui definiva il giovane sasso discutibile ma non inutile e ancora Bausi di recente si è riferito a quella edizione di fatto però questo itinerario come vi dicevo prima si prende a brivo nell'ambito dell'istituto italiano per gli studi storici nel 52 dietro il magistero di Chabot prime recensioni perché prima quando si cominciava un percorso di studi a Sasso ma anche a quelli della mia generazione ci facevano fare tante recensioni la recensione era il primo genere che appariva e ne abbiamo fatte ben tante che poi apparivano negli annali che so della Federico II per quanto riguarda me e così via dicevo i recenti studi sul Machiavelli che è una discussione sintetica dei saggi che rappresentavano le tendenze storiografiche della ricezione europea perché c'è questo dato importante il confronto di Sasso con una ricezione europea un dialogo polemico con Irene Odei Whitefield e anche con poi più oltre nel 58 con uno storico epistemologo come Leo Strauss nel 58 escono insieme due testi opposti la ricostruzione Machiavelli sul pensiero politico di Machiavelli e poi quei Taut o Machiavelli di Leo Strauss mi scuso se devo fare riferimento alla filosofia perché proprio a personalità e a testi come quel di Strauss forse possono attagliarsi le accuse di quella filosofia che invece in un filosofo filologo come Sasso bisogna dare torto a Dionisotti mi dispiace di verlo fare in absenza appunto non hanno ragion d'essere ma il fatto è che un filosofo come Sasso attento ai movimenti ai processi intertestuali ai testi della scrittura è chiaro che un personaggio come Sasso è per l'allievo di Vittorio Chan era un po' destabilizzante perché non rispondeva al canone del filosofo puro quanto meno ma non mi soffermo su tutte le recensioni le discussioni che poi arrivano a questa storia del suo pensiero politico a questo volume del 58 che poi incrementato continuamente ha dato vita a volumi anche recenti l'attenzione estrema dicevo che ha da sempre caratterizzato il lavoro di Sasso ecco lo rende particolarmente adatto a questo a questo dialogo a questo dialogo fervido a volte con queste dissimilazioni ma il dialogo scrive Sasso ci può essere solo con quelli che non escludono che ci sia un pensiero di Machiavelli non esiste un sistema ma quel pensiero profondo esiste voglio ricordare quanto ebbe a dichiarare Mario Martelli nel 95 in apertura del convegno di Losanna Machiavelli politico storico letterale raramente dato trovare acque così tempestose scriveva Martelli come quelle attualmente solcate dagli studi machiavelliani su niente c'è accordo non sulla cronologia e sulla storia redazionale del principe non sulla storia redazionale e sulla cronologia dei discorsi su nulla soprattutto non c'è accordo sull'identificazione del personaggio Machiavelli ecco ora questo rimane il punto chi è Machiavelli il personaggio questo lo dice Martelli che aveva accumulato pagine e pagine potremmo dire con con un pleonasmo e un po' paradossale che Machiavelli è l'autore delle opere di Machiavelli e il dibattito poi fervido tra Martelli e Sasso è fondato sull'analisi millimetrica di parole date virgole con una causidicità che appartiene ad entrambi trasalimenti del testo verifiche del contesto giorno per giorno 30 anni e che anni ogni anno ne valeva almeno 10 e dicevo cooperazione antagonistica penso ai saggi al saggio di Sasso il principe ebbe due redazioni non voglio fare questa storia naturalmente il saggio che ora si trova in Machiavelli e gli antichi e penso al saggio il volume di Martelli saggio sul principe 1999 allora che cos'è questa inconcludibilità strutturale nella storia della cultura italiana che si è data in modi analoghi e con pari mobilitazione e continuità solo per Dante viene in mente l'ultimo intervento di Benedetto Croce che ha dialogato con Machiavelli per una vita è una storia raccontata descritta e proprio da Gennaro Sasso l'ultimo intervento di Benedetto Croce nei quaderni della critica 1949 l'ultimo intervento su Machiavelli una questione che forse non si chiuderà mai la questione del Machiavelli ora questa questo lavoro questo lavoro che continua e deve continuare nei modi nei modi in cui gli studi gli studi scientifici sanno possono e soprattutto in questo periodo debbono continuare a fare poi il saggio di Croce si trova nelle indagini su Hegel e non è un caso che quel titolo poi non credo che sia una curiosità estrinseca apre il libro di Althusser ecco un altro di questi filosofi iniziatore del del Marx prima di Marx naturalmente per Althusser Machiavelli però dice cerca di afferrarne il profilo solitude de Machiavelli la solitudine ora vedete la verità i dati di fatto a cui sempre si riferisce dell'introduzione Bausi anche polemicamente dettagli piccoli indizi da non trascurare perché provengono e ben lo sappiamo da documenti come le lettere private che possiedono un grado di attendibilità sincerità superiore a quella di altri testi queste lettere ci rivelano dice Bausi l'infondatezza di certe tesi mettono in discussione luoghi comuni e poi aggiunge lungi da me l'intenzione di riproporre in termini manichee manichee vecchi di atrib cui parla di quelli che si ostinano a fare di Machiavelli un classicista un filologo dotato di profonda familiarità con questo ecco questi che vogliono ancora sostenere questo sanno che ciò non è più possibile ma non è questo il punto non è questo il punto perché ora ora Sasso ci ha detto che l'allergia di Machiavelli per l'umanessimo archeologico non è un umanista sicuramente ma allora di che si tratta penso ancora a questa passione della verità a questa passione della verità che potrebbe invece consistere nelle forme della scrittura che cosa ci dice questo questo complesso carteggio certamente nell'introduzione al carteggio ma anche nella biografia costruita su studi storici filologici documenti eruditi negletti in passato a favore di indagini teoriche sempre Bausi che sta parlando nell'introduzione alla biografia ecco a forza di cercare i fatti e i dettagli come giusto che sia tutto sommato contro le astrattezze in luogo del mito della maschera monumentale troviamo un uomo un uomo politico un letterato del suo tempo che dice Bausi non è Vettori è tantomeno Guicciardini ma che con loro conversava e si misurava c'è una necessaria de minuzio una riduzione proprio visto che ci sono documenti dove una parola che cambia vuol dire tanto quindi capisco bene la diffidenza del grande filologo rispetto a tutto ciò che appaia come ermeneutica come interpretazione che anch'essa però non può non può smettere queste lettere soprattutto in certe sto per concludere perché non c'è tempo ma c'è il tempo sono le 6 e mezza le 6 e 25 soprattutto proprio queste lettere e talune mirabilmente curate con dei cappelli che io ho letto come romanzo perché anche il viaggio testuale diceva diceva Raimondi che gli italiani a differenza degli anglosassoni non sentono la poesia della filologia qui qui c'è qualcosa di questo probabilmente la lettera più importante se mi posso esprimere se posso esprimere ecco soggettivamente è proprio quei di Ribizia al Soderi mirabilmente curata da Alessio De Cari e sono andata a vedere è un manipolo di agguerriti filologi storici ben governati da Francesco Bausi ebbene lì innanzitutto una storia di questo e disseminazione di questo lemma e di questo concetto Ghiribizzo viene fuori con forza e quel Ghiribizzo in particolare e anche il Ghiribizzare come dice in un'altra lettera Machiavelli usando il verbo ci mette a contatto con un ipergenere di per sé sfuggente una lettera che esonda rispetto all'epistola e quindi anche per questo immagino che non sia stata spedita ma lì proprio è la forma che ci interessa lì è il metodo di una scrittura che mentre insegue il suo grande tema il suo grande tema comincia ad annotare con le cosiddette chiose con postille che creano delle linee di fuga dice Decaria è un testo dallo statuto incerto trascolorante ed è molto importante per il discorso che qui si faceva la capacità di confrontarsi di Decaria con uno come Ginzburg che non ci dice nulla utile all'ecdotica del testo che però ci dà qualche dritta molto fine per individuarne le ragioni della struttura quella tecnica dell'unpromptu dell'improvviso un pensiero improvviso quindi è un testo che si apre continuamente e l'altra cosa che bisogna dire e a cui tengo come coordinatore di un dottorato di digital humanities è molto importante che Decaria dica certo bisogna tener conto dell'effetto ingessante dell'edizione critica della difficoltà di una rappresentazione lineare ora noi vorremmo vederla quella cosiddetta lettera chiamiamola così quel ghiribizzo io penso che una mappa digitale come quelle che è brava a fare Paolo Italia per gadda tanto per dire ma anche noi abbiamo un abbiamo un dipartimento di informatica che saprebbe farlo del resto l'informatica umanistica l'abbiamo inventata noi nel 49 con padre Busa sul corpus lessigale di Tommaso d'Aquino quindi non sto dicendo nulla di strano ecco ora quella lettera vorremmo vorremmo vederla e allora il ghiribizzo è da dal libro di Carlo Ginzburg ma non solo da quello da alcuni interventi Marchand il discorso paradossale il discorso paradossale nel nel principe nella lingua del principe e gli interventi di Furnel beh cominciano hanno cominciato da tempo a metterci in contatto con con qualcosa che è uno stile di pensiero ecco uno stile di pensiero intanto la componente ironica metalinguistica che qui c'è fortissima la discussione dei termini che noi poi ritroviamo ovviamente nel principe pensiamo a quel capitolo sedicesimo non liberale ma il nome di liberale non misero il nome essere tenuto essere ritenuto misero c'è un passaggio interessante la passione per il paradosso le figure della dissociazione delle nozioni la distinzione fra ciò che è e ciò che appare non vi dico nulla di nuovo però bisogna bisognerà ricordare che il vasto campo semantico del ghiribizzo si installa entro uno stile avversativo dove la realtà della cosa e la serie dei nomi che le vengono apposti è in crisi ecco ecco queste lettere ci mettono a contatto con la lingua di Machiavelli con la scrittura la scrittura extravagante come la definiva Guicciardini che poi ne dà un esempio massimo nell'ultima lettera nella lettera meravigliosa e commovente vi devo dire perché lui lo aveva scritto ecco 25-27 anche lì ritrovamento da grazie a Marcello Simonetta di un autografo cinquecentesco ci fa capire che lui poi tornando in quel luogo disprezzato e dileggiato naturalmente da scherzosamente da Machiavelli ecco scrive a lui un un addio alla Machiavelli ora quello che che bisogna da questo punto di vista ecco la forza del ghiribizzo indicare quella che un altro autore che ha scritto molto su Machiavelli si chiama Quentin Skinner è uno storico delle idee anglosassone e che nell'edizione italiana del suo libro nel 2001 ha tutto adoperato per indicare che cos'è interpretazione che cos'è comprensione di un testo casi i suoi casi tutto sempre Machiavelli e parla non voglio abbiamo detto paradosso abbiamo detto ghiribizzo discussione metalinguistica abbiamo detto tutto questo Quentin Skinner parla di una ridescrizione paradiastolica del discorso sulla verità e la paradiastola è esattamente il paradosso il mettere insieme cose che non vanno insieme che non dovrebbero andare insieme vorrei concludere qui indicando appunto il punto in cui grazie a questo carteggio è giunta la situazione degli studi molti seminari sicuramente saranno organizzati su queste lettere ma anche su ciascuna di esse vorrei dire su ciascuna di esse sulle figure che ne vengono fuori sulle più frequenti ma su cui mi vieto di dire alcunché e quindi non posso che dare offrire il mio grande esercizio di ammirazione quasi stupefatta penso agli anni e penso anche ripeto io penso sempre al lavoro comune quando abbiamo fatto lavori in comune con i miei giovani allora giovani non sono manco più giovani neppure loro allievi e poi noi diciamo sempre è come essere stati insieme in trincea ed è molto ed è molto bello questa immagine di battaglia che però è una battaglia per una comune identità voglio dare ora la parola al professor Bausi c'è tutto il tempo grazie ma intanto a me spetta per primo luogo ringraziare perché questo va fatto per prima cosa e non in modo formale ringraziare intanto l'istituto dell'incipazione italiana professoressa Gianmattei per aver organizzato questa discussione questa presentazione così stimolante anche per me non solo per il pubblico e quello che hanno parlato Genaro Sasso innanzitutto per aver elogiato così sentitamente l'opera e a tempo stesso fornito stimoli critici di riflessione a Maria Cutinelli cioè Gianmattei naturalmente e tutti voi che siete presenti e poi ringraziare l'editore ringraziamento non formale anche questo perché pubblicare un'opera del genere in questo momento e negli anni in cui è stata pubblicata perché io ho consegnato il lavoro per la stampa il 4 marzo 2020 e pochi giorni dopo cominciava lockdown quindi la stampa di quest'opera che ha richiesto più di due anni per la difficoltà dovuta anche al momento storico che stavamo vivendo è tanto più meritoria e tanto più merita a partire ringraziamenti da estendere naturalmente anche a tutta la Salerno alla redazione al dottor Bruno Itri che hanno alla dottoressa Latini ecco che hanno lavorato per portare a termine quest'opera che come sempre in operazione di questo tipo una volta finita non è finita perché la stampa è stata una riscrittura praticamente dell'opera stessa che è in primo luogo questo ci tengo a dirlo opera di filologia come è stato detto anche dalla professoressa di preparatori alla stampa dell'opera forse anche otto non sono certo stati impiegati per stendere l'introduzione ecco i sette anni sono quelli che hanno otto ha richiesto l'edizione dei testi ne parlava prima Emanuele Cotinelli-Rendina ha richiesto l'allestimento degli apparati ha richiesto l'allestimento delle note linguistiche esplicative capire cosa c'è scritto in questi testi cosa apparentemente ovvia no? perché edizioni di lettere di Machiavelli ce ne sono ormai da secoli ma non così forse banale identificare i personaggi contestualizzare tutti gli accenni le allusioni presenti in questi scritti cercare i testimoni correggere i testi centinaia e centinaia di lezioni corrette lo studio linguistico i documenti di corredo detto giustamente il professor Sasso ogni lettera è stata trattata come un'opera sì perché ogni lettera è un cappello introduttivo lo diceva anche Emanuele Cotinelli-Rendina a volte molto lungo che è quasi un saggio sull'opera ma non un saggio critico ma è un saggio è un saggio storico biografico filologico studio linguistico una nota linguistica una ampissima nota filologica con i problemi di definizione del corpus delle lettere perché il carteggio di Machiavelli non ha un corpus definito basti dire che su 350 lettere circa solo 80 sono di Machiavelli solo 80 il carteggio di Machiavelli è stato detto non da me è il carteggio dei corrispondenti di Machiavelli e questo aumenta e questo aumenta a dismisura i problemi perché ognuno ha la sua voce la sua cultura le sue motivazioni le rivolgersi a Machiavelli il suo stile e Machiavelli sia un autore studiatissimo ma questo settore dell'opera machiavelliana è stato a lungo negletto Roberto Ridolfi diceva il carteggio è il grande invalido dell'opera di Machiavelli la mancanza di un'edizione critica non significa semplicemente la mancanza di un testo critico significa la mancanza di un commento veramente a tutto tondo ecco delle lettere significa la mancanza di uno studio linguistico di un inquadramento di ogni lettera anche per le lettere più note la lettera 10 dicembre 1513 chi non la conosce certo però nessun commento disponibile si identificavano tutti i personaggi citati per esempio sono mortissimi o le allusioni di Machiavelli la lettera spesso è utilizzata per delle disquisizioni su questioni di carattere generale ma poi se si va a spiegarla parola per parola come è necessario fare come meritano questi test lì i problemi sorgevano ad ogni passo abbiamo deciso ecco di procedere questo spiega anche la fatica ha richiesto quest'opera a quella che ho chiamato altrove un'edizione totale lungi c'è da noi l'idea di fare un'edizione asettica con testi apparati critici che già sarebbe stata un'operazione meritoria estremamente complessa ma ogni lettera è stata inserita in un continuum di tipo biografico di tipo storico attraverso i cappelli introduttivi ci siamo posti in primo luogo appunto una esigenza di ricostruzione della biografia di Machiarelli attraverso le lettere da qui anche la decisione di corredare l'epistolario di appendici che pubblicano per la prima volta o ripubblicano dopo molto tempo documenti in parte anche inediti che hanno attinenza con l'epistolario e hanno attinenza stretta con la biografia di Machiarelli per esempio i testamenti lo ricordava Cutinelli che nell'edizione ottocentesche c'erano poi sono scomparsi che sono importantissimi per comprendere Machiarelli o altri testi adesso dirò qualcosa ecco relativi alla vita all'attività del segretario in parte noti ma in parte anche da noi scoperti per la prima volta certo quest'opera nasce da una lunghissima tradizione di studi benché l'epistolario sia stato a lungo negletto tuttavia esiste una tradizione di studi su Machiavelli che confluisce nel nostro lavoro decenni direi secoli di studi Ridolfi certo è stato il pioniere degli studi sull'epistolario sul carteggio nel mediato secondo dopoguerra negli anni 50 ma poi sulla sua scia si sono incamminati grandi studiosi dei quali noi abbiamo ovviamente approfittato largamente è uno di quei lavori ecco anche di sintesi di decenni di studi machiavelliani che in un certo senso ecco chiudono un capitolo e ne aprono poi ne aprono un altro certo non mi illudo e non cadosi nell'ingenuità e anche nella pretesa sciocca ecco di considerare la filologia una disciplina asettica che possa permettersi di pretendere ecco una separatezza dall'interpretazione una neutralità dentro la filologia c'è un pensiero il filologo per parafrasare Croce deve avere delle idee e anche se dice non averle le ha ogni scelta il filologo ha un'interpretazione non solo nella microscopia del testo ma anche poi ciò che sta dietro l'edizione il progetto editoriale è complessivo nel caso nostro nel caso mio l'intenzione è stata quella diceva in parte Gian Mattei prima di focalizzare lo sguardo sull'uomo Machiavelli l'uomo Machiavelli è il titolo famoso saggio di Roberto Ridolfi che oggi per certi aspetti può sonare retorico anche se poi va collocato nell'epoca in cui fu scritto anche per quella suddivisione tra maschera e volto di cui parlava Cutinelli per questa insistenza sulla sincerità ecco delle lettere rispetto ad altri scritti di Machiavelli anche altra affermazione anche questa chiaramente che andrebbe così delimitata perché poi le lettere di Machiavelli sono di mille tipologie c'è la lettera familiare in senso strettissimo come quella che lui riceve dalla moglie o come alcune che lui scrive ai figli ma poi ci sono anche gradazioni di lettere in cui c'è un atteggiamento di Machiavelli nei confronti suoi corrispondenti soprattutto quelli sopra di lui socialmente come Vettori e Guicciardini quindi non è tanto questione di sincerità o meno di maschera o di volto è questione di biografia di vita dell'uomo Machiavelli che certo non può essere separato da Machiavelli scrittore pensatore uomo politico ma comunque il mio interesse per l'uomo Machiavelli sta nel fatto che esso consente di poi fondare l'interpretazione di Machiavelli sulla sua biografia per esempio ho citato prima i testamenti dai testamenti di Machiavelli emerge il fatto che Machiavelli non era affatto povero come lui dice ridice quando scrive avvettori sono nato povero eccetera vivo qui di quel poco a Santander percusina che la mia villa mi offre il mio piccolo patrimonio mi offre storia non è vero non è vero il suo patrimonio era superiore a quello del padre Machiavelli era un bravo amministratore di se stesso e aveva incrementato questo patrimonio si tratta di una posa di una posa ovviamente a cui Machiavelli ricorre per convincere il poco così diciamo intraprendente Vettori a muoversi presso i medici per aiutarlo ecco fosse anche avvoltolare uno sasso il sasso poi lui l'ha avvoltolato davvero una delle acquisizioni a cui tengo di più del lavoro nostro è vero l'aver focalizzato quell'episodio dell'estate 1516 in cui Paolo Vettori fratello di Francesco Vettori e allora ammiraglio della Marina Pontificia si serve di Machiavelli come suo aiutante galoppino chiamiamolo come si vuole di terra ma forse anche non solo di terra vero nella quel frangente nel quale la Marina Pontificia era impegnata nella lotta contro i corsari berberi che infestavano il terreno e lo ionio c'era un testo che faceva intravedere qualcosa in questo senso una delle lettere che tuttavia mancando del contesto così risultava abbastanza civillina dell'ottobre 1516 da Livorno che ci faceva Livorno Machiavelli perché aspettava le navi del Pascià così si legge in tutte le edizioni ma quale Pascià non c'è nessun Pascià quello è un emendamento sbagliato di Alvisi di una lezione sbagliata di Dancona Brascià invece lui aspettava le navi del Biassa che è un capitano spezzino le cui navi erano state ingaggiate dal Papa per appunto rinforzare la Marina Pontificia impegnata in Tunisia contro i corsari accanto a questo testo se ne accumulano altri che noi abbiamo scoperto uno era in parte già noto e in parte pubblicato in parte perché l'altra parte era così illegibile indecifrabile noi con gran fatica ci siamo riusciti in parte noto ma non contestualizzato non compreso questi altri test illuminano la lettera e permettono di vedere che Machiavelli nel 516 non era come lui dice sempre vero enfatizzando la sua condizione non era inattivo non era totalmente marginato dimenticato ma invece grazie a Paolo Vettori molto più intraprendente del fratello molto più potente era riuscito a avere questo piccolo incarico forse anche quel beneplacito vero del Papa e Cardinale Giulio che lo faceva rientrare magari da una porta di servizio a lavorare per i medici questo vuol dire utilizzare i testi per fondare e la biografia per fondare anche un'interpretazione della figura di Machiavelli significa per esempio dare forza a un'idea che io ho secondo cui appunto la composizione del principe nasce per influenzata da circostanze pratiche senza le quali probabilmente il principe sarebbe stato scritto ecco ossia il licenziamento di Machiavelli la sua esigenza pressante di farsi così adoperare dai medici tramite vettori il pontificato freschissimo di Leone X la voce corrente che il Papa avrebbe dato a suo fratello Giuliano uno stato come principe nuovo questo significa a mio avviso utilizzare l'uomo Machiavelli per capire meglio Machiavelli senza specificazioni Machiavelli to cure che non significa e io sono d'accordo su questo con Sasso e se io ho insistito su certi punti nell'introduzione l'ho fatto solo relativamente alle lettere cioè al fatto che da lettere di Machiavelli certo se non conoscessimo il resto non ci faremmo l'idea ecco di Machiavelli come un uomo di vastissima cultura classica o filosofica però sono convinto anch'io che me a quelli sia un pensatore certo non sistematico d'altra parte non lo era neppure Guicciardini anzi forse lo era ancora meno che sia un uomo di ampia cultura che amasse leggere gli storici antichi Jean Baudin nel Cinquecento coniò un termine molto bello riferendosi a Machiavelli che Guicciardini filosofi historicus sono i filosofi storici cioè sono pensatori fortemente radicati nella storia e nella interpretazione ecco della storia da cui nasce il loro pensiero questo è stato un po' diciamo il filo conduttore che però poi si si trova espressione nelle pagine dell'introduzione ma non vorrei ecco che poi quelle pagine finissero per riverberarsi troppo ecco su quello che è poi in realtà stato l'obiettivo del lavoro che è il risultato ecco del lavoro ossia mettere a disposizione dei dati che certo noi abbiamo anche interpretato perché è illusorio ripeto pensare di poter separare la filologia di interpretazione o il fornire il dato dall'interpretarlo sarebbe anche un po' limitativo da parte nostra però si è inteso soprattutto fare questo cioè fornire dei dati su un settore dell'opera di Machiavelli e anche della sua biografia poco noto nonostante tutto ci sono molte edizioni sicuramente però nessuna di queste edizioni ha mai fatto una revisione dei testi ha mai prodotto un commento esplicativo spiegare appunto di identificazione dei personaggi di studio linguistico di contestualizzazione di ogni lettera settori interi del carteggio erano negletti certe lettere sono notissime ma prima del 1512 della diciamo frattura che divide in due la vita di Machiavelli e anche il carteggio licenziamento dalla cancelleria nel novembre del 12 a parte i ghiribizi che cosa si conosce sì la lettera al cosiddetto ma probabilmente non è lui Ricciardo Vecchi in merito a certe prediche di Savonarola benissimo e siamo a due ma di quelle 225 lettere prima del novembre del 12 cosa realmente si conosce di queste 225 lettere solo 16 sono di Machiavelli solo 16 tutto il resto è corrispondente di Machiavelli quindi si ricostruisce la bibliografia di Machiavelli dalle lettere che spesso sono risposte a lettere perdute dello stesso Machiavelli quindi liberamente ci si muoveva ecco in un corpo a corpo ha parlato di trincea con questa parola che mi è piaciuta molto una trincea quotidiana con questi testi pochissimo studiati pochissimo conosciuti se non qua e là laddove possano fornire indicazioni di vario tipo ecco utilizzabili per la biografia di Machiavelli e anche nei settori più noti ci siamo trovati di fronte a momenti veramente di grande difficoltà ho citato la lettera del 10 dicembre è stata citata non mi ricordo da quale degli oratori la lettera con cui Guicciardini risponde ah sì da Coutinelli alla critica forte che Machiavelli aveva fatto di una villa di campagna che Guicciardini voleva acquistare e Machiavelli anzi l'aveva già acquistata e Machiavelli fu mandato da Guicciardini che si trovava a Faenza a vederla per vedere se insomma valeva la pena tenerla o no ecco questa lettera con cui Guicciardini risponde pezzo di letteratura diciamo umoristica così come poteva essere umorista Guicciardini unico nella sua produzione è una lettera che lui ha scritto sia a caldo nel 25 e nell'agosto probabilmente senza mai mandare a Machiavelli ma poi l'ha ripresa in mano e l'ha riscritta nell'autunno del 27 quando Machiavelli era morto da alcuni mesi e quella lettera va spostata dopo la morte di Machiavelli il carteggio di Machiavelli che nella sua prima parte è fatto dei corrispondenti e Machiavelli non c'è finisce con una lettera scritta a Machiavelli morto perché questo è perché noi abbiamo di quella lettera di Guicciardini in cui Madonna Possessione di Finocchieto così si chiama la villa si difende da Machiavelli che l'aveva così sottovalutata perché non abbastanza appariscente mentre a Machiavelli piacevano le donne appariscenti così si dice perché frequentava la riccia quella lettera lui Guicciardini l'ha presa in mano a noi è giunta solo in una copia dell'autunno del 27 quindi lì va datato quel testo perché nell'autunno del 27 Guicciardini lo ha riscritto lo ha modificato a mo' di dialogo e di omaggio all'amico da poco scomparso un omaggio unico veramente nella vita nella esperienza letteraria di Guicciardini per un'amicizia unica come fu quella con Machiavelli e fa venire in mente mutatis mutandis quell'omaggio altrettanto straordinario alla fine della sua vita Petrarca fa a boccaccio traducendo la Griselda in latino è un omaggio di questo tipo tra quello che era a quell'epoca il grande Guicciardini e Machiavelli morto potremmo dire anche un po' in disgrazia ovvero pochi mesi prima in condizioni anche per lui certo non lo zinghiere ecco questo omaggio suggella il carteggio nel dialogo postumo ecco tra questi due giganti ecco nella nostra storia la nostra cultura del rinascimento quindi è un'opera anche che anche solo per questo apre nuove prospettive ecco sulla capacità nostra di capire Machiavelli nel contesto della sua epoca e nei rapporti con i suoi interlocutori un carteggio che non è sì è vero è un carteggio familiare ma estremamente frastagliato fatto di lettere in gran parte di corrispondenti Machiavelli comincia a apparire solo dopo il novembre del dodici l'ultima lettera una lettera a Machiavelli di fatto già morto c'è tutta una zona grigia lo diceva Cutinelli di lettere che non si sa anzi diceva il professor Sassu non si sa se sono poi del tutto private o del tutto familiari tant'è vero che nei carteggi certe lettere scompaiono poi riappaiono a seconda di come il curatore le intende cioè pubblicare un carteggio così significa già ricostruire la biografia di Machiavelli e se lo si fa con animo scientifico significa ricostruirla su nuove basi per aprire anche nuove prospettive agli studi futuri vi ringrazio io credo che su questa lezione appassionata di Bausi noi possiamo sicuramente chiudere questo incontro ne usciamo anche dall'incontro arricchiti e sicuramente questo carteggio ci dice tanto tanto di più su quel personaggio che pareva inconoscibile e che sicuramente aspetta ancora nuovi studi ma per fortuna sembra che le forze e la passione vi siano entrambe io voglio ringraziare particolarmente Bausi e i suoi e voglio ringraziare Enrico Malato se voleste dire una parola un saluto solo una parola di ringraziamento innanzitutto a Francesco Bausi per il lavoro che ha fatto avete capito avete seguito come lo ha fatto con una squadra che lui ha governato e naturalmente il merito dell'edizione dell'epistolario è tutto esclusivamente di Francesco Bausi chi vi parla come coordinatore presidente della commissione scientifica dell'edizione nazionale ha però un piccolo merito marginale che vorrei evocare cioè l'edizione nazionale di Maiavelli ha un'impronta insolita rispetto alle edizioni nazionali che io imposto quando è nata la commissione perché volevo realizzare in questa edizione nazionale come in tutte le altre edizioni che io ho curato per la Salerno editrice un principio che credo fondamentale sul quale abbiamo tenuto un convegno addirittura a Napoli l'edizione leggere oggi i classici cioè le edizioni nazionali per antica tradizione essendo state fondate nell'ottocento un dettaglio curioso che però è indicativo di una situazione l'edizione nazionale di Maiavelli è stata la prima edizione che è stata pensata nel 1859 dal governo provvisorio di Firenze partì dopo vent'anni fu chiusa perché non riusciva ad andare avanti è stata riproposta agli inizi del novecento è stata in piedi per qualche lustro e poi si è chiusa anche quella non è andata avanti l'abbiamo presa noi 30 anni fa noi centro Pioraina 30 anni fa e in 30 anni l'abbiamo conclusa con questa praticamente conclusa c'è una piccola cosa che adesso vengo a spiegare perché quando fu avrato il progetto e si discusse di come realizzare l'edizione io ribadì il concetto che le edizioni moderne dei classici devono essere in ammodernamento grafico se noi stampiamo i testi nella grafia del cinquecento noi non rendiamo un servizio ai classici noi facciamo le edizioni dei classici perché siano fatti circolare siano letti siano fatti vivere se noi li presentiamo in grafia cinquecentesca noi li sottraiamo all'attenzione del pubblico facciamo un convegno a Napoli è passato il mio concetto che fai vuoi ammodernare gli autografi di Machiavelli beh dico ammoderniamo anche gli autografi di Machiavelli senza fare violenza a Machiavelli faremo una sezione speciale in chiusura ed è quello che manca alla conclusione dell'edizione nazionale gli autografi di Machiavelli li riproduciamo in facsimile e poi in trascrizione diplomatico interpretativa quindi Machiavelli viene salvato nella sua autonomia di scrittura però noi diamo dei testi che siano leggibili da tutti oggi con l'ammodernamento grafico abbiamo introdotto anche l'apparato esegetico che nelle edizioni nazionali non c'è mai quindi voglio dire fermo il merito di Bausi che l'ha realizzata l'architettura dell'edizione l'abbiamo studiata noi come centro Pioraina l'abbiamo imposta per queste edizioni e per altre edizioni che abbiamo realizzato scusate se questa puntualizzazione mi fa piacere che mi ha dato l'occasione la possibilità di farla perché è un piccolo merito che credo di meritare e di poter rivendicare per il resto grazie a Gianna Rosasso grazie a Emanuele Cosinelle Rendina grazie ancora lo dico a Francesco Pausi ha fatto un lavoro improbo e fu ucciso un'edizione che è al di là di ogni lode possibile è un monumento a Magliavelli e credo che sia il miglior riconoscimento che potessimo dare grazie